Eccoci tornati qui a New Manu Adams, come sempre! Allora, è da tanto che non faccio video, ma vi spiego il perché. Vedete sto dito? Eh, me lo sono uspionato ieri, perché... Sapete il gioco della padella? Uspione di secondo grado. Della padella che tu devi lanciare la crepe in aria e farla girare in aria. Io e il mio amico stavamo facendo le crepe e abbiamo fatto quel gioco. E io ho detto al mio amico, spostati, spostati Tommy che faccio io. E ho preso la padella male, perché ero di fretta. Ho preso la padella male e mi sono uspionato. Ho urlato tutta la sera. Volevo salutare un mio caro fan, che è da tanto che mi segue, che si chiama Alessandro. Alessandro non dico il cognome, però comunque lo saluto tantissimo. E vuole che io parlo un po' di calcio e dei miei rapporti con i videogiochi. Mi è piaciuto un sacco, st'ideale. Grazie. Iniziamo col calcio. Calcio, vi mentirei se direi che non mi piace, perché mi piace, però preferisco il basket. Però adesso parliamo di calcio. Io tifo il Milan, perché ho anche come vicino di casa Montari, quindi tifo il Milan. E praticamente non faccio calcio, sono un appassionato, lo vedo sempre. Per esempio, vi so dire che l'ultima partita Milan-Bologna l'ha vinta il Milan 1-0, gol di Valutelli al 37esimo, mi sembra. E altro non vi so dire, solo questo, che c'erano due miei amici lì a vederlo allo stadio. Vi volevo dire, ah, videogiochi, videogiochi, videogiochi io sono un appassionato, perché non riuscirei a vivere senza i videogiochi. Però, adesso sto guardando l'Xbox, c'ho l'Xbox. Se volete, mandatemi la richiesta su Xbox Live, mi chiamo Gianluca Pizzi, qui in descrizione, qui sotto c'è il mio nome, bene. Mandatemi la richiesta di amicizia su Xbox Live, e sono molto felice, se volete potete anche mandarmi dai miei stadi, io rispondo. Ciao GTA V, giocano online, sono abbastanza forte, dai. Credo di essere forte, perché c'ho la casa da 400.000 dollari, però non c'ho la Bugatti, vabbè. Farò un gameplay, presto, farò un gameplay. E se volete giocare all'online con me, su GTA V online, potete farlo, io sono molto felice, anche con le cuffie, se vuoi chiacchierare con me, fallo. Allora, vi volevo dire una cosa importante, importantissima per tutti i miei fan. Allora, adesso sono le 11 meno 10. Facciamo, alle 11.20, io sono su Omegle, o Omegle, credo che si dica, parola chiave Newman Adams con la N maiuscola. Ve lo dico qui sotto, in descrizione, come si dice, su Omegle, parola chiave, due punti, Newman Adams con la N maiuscola. Allora, alle 11.30, io sono su Omegle, ok? Saluto i miei fan e chiacchiero con loro. 11.30, mi raccomando, 11.30 su Omegle. Grazie ragazzi per questo video, saluto Alessandro. E al prossimo video, mi raccomando, tutto in descrizione, qui in descrizione, alle 11.30 su Omegle, mi raccomando. Fra 40 minuti, ora che carica il video farà mezz'ora. Alle 11.30 su Omegle, mi raccomando. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.